La sopravvivenza dei pazienti affetti ad amieloma è cambiata in modo importantissimo negli ultimi 15 anni, solo qualche anno fa, e parlo del 1990, la sopravvivenza media era 29 mesi, oggi abbiamo sopravvivenze medie che vanno dai 5 ai 7 anni, ma oggi vediamo quello che è stato fatto 5 anni fa, quello che viene fatto oggi ha un'attesa, un'aspettativa di sopravvivenze che raggiungono i 10 anni. Soprattutto con i farmaci di tipo orale la qualità della vita è ottimale, sia per la facilità d'uso sia anche per il rischio di tossicità estremamente limitato e quindi da questo punto di vista direi che rappresenta una delle attenzioni principali per il futuro, lo sviluppo di terapie che permettano e consentano una buona qualità della vita, una domiciliarizzazione e soprattutto limitino in modo importantissimo le tossicità. Da questo punto di vista aggiungerei anche che i medici dovrebbero imparare a ridurre e sospendere le terapie che creano e inducono tossicità inaccettabili. In Africa non è possibile effettuare un vaccino per il morbillo, in America ci sono capacità e risorse e spesa sanitaria nettamente superiore alla nostra, quindi la spesa è funzione delle nostre capacità economiche e cambia da paese a paese. Io credo che si debba sempre di più andare a valutare il costo complessivo e quindi il costo complessivo è il costo del farmaco da un lato, della mancata o obbligatoria ospedalizzazione dall'altro, della presenza o meno di un'autonomia che non richiede supporto di terzi. Allora, partendo dal concetto che possiamo spendere quanto abbiamo in qualche modo guadagnato come società e sicuramente i tedeschi possono spendere più degli italiani, partendo da questo concetto la valutazione del costo dovrebbe tener conto di questo insieme di cose, quindi di quanto anche una terapia domiciliare può creare dei vantaggi economici rispetto a una terapia ospedaliera. Alcuni farmaci sono già disponibili in Germania, non lo sono ancora in Italia, c'è una dispensazione dei nuovi farmaci che ha tempistiche diverse tra paese a paese e questo può ritardare di qualche anno l'ingresso di un nuovo farmaco nel mercato. Onestamente il modello italiano è un modello da questo punto di vista ottimale, tra i migliori perché riesce in qualche modo a selezionare e a concentrare le risorse dove più è necessario. Sicuramente credo che ci sia bisogno probabilmente in futuro di un'assicurazione o di un'aggiunta di risorse tra virgolette personali perché non so quanto l'impatto sanitario sarà possibile mantenerlo con un incremento notevolissimo dei problemi sanitari nel prossimo futuro. La prima società al mondo di ematologia è nata in Italia, quindi c'è una storia importante, dopo gli Stati Uniti siamo il paese con il più alto livello di pubblicazioni scientifiche in campo ematologico. La collaborazione c'è, l'expertise c'è, si può probabilmente migliorare l'efficienza cercando di concentrare maggiormente, soprattutto per quanto riguarda le patologie rare, i centri che affrontano queste patologie perché è ovvio che l'expertise di un medico è solo e unicamente funzione del numero di pazienti che vede con quella determinata patologia in una settimana e un mese, tutto il resto è molto secondario. In Italia c'è una rete ben distribuita, quindi sicuramente se possibile la ricerca di un centro di ematologia, quindi la ricerca di un centro specialistico e in seconda battuta la ricerca di un'unità all'interno del centro specialistico che si occupi specificamente di mieloma o di linfoma o di leucemie e quindi l'esistenza di un gruppo di professionisti che sono dedicati a quella patologia.